Giri col naso verso la pianura. Buona, ci siamo, affrontiamo gli esercizi, tutto a posto, ci sono le amiche mucchine, allora in atterraggio il vento è da ovest, allora, massima velocità, è bello che sia fino a ovest, è lo so, woohoo, woohoo, woohoo. Allora Matteo, dito che c'è un po' di vento nei verticali dei 360, sono ben sopra il condominio, non a metà campo, se no devi continuamente ciao che rimontare, c'è capito? Certo che vado a fare l'esercizio, guai, stanno, trovarà dopo Giancarlo, anche Giancarlo è pronto, aspettiamo che gli vanno, ok, vanni, via con gli esercizi, cazzarola, a tutti i nostri spettatori, 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 rilascia, rilascia bene, la tieni i freni in mano, impugna bene il cordino, a tutti i nostri spettatori, a tutti i nostri spettatori, ok, avisa. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.